Di sostenere il nostro territorio e fare in maniera tale che le piattaforme petrolifere non rovinino la nostra costa e il nostro paese, perché il mare Adriatico è un lago, noi puntiamo tutto come regione sulle bellezze, però possiamo permetterci di rovinare tutto. Per i turi interessi, i sporti e i conosci.